numero 5 questa grattugia in acciaio inossidabile consente di utilizzare quattro facce a scelta per diversi tipi di formaggio la grattugia è dotata di un pratico vano raccoglitore è facile da pulire ed è lavabile anche in lavastoviglie ottimo prodotto per qualità prezzo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questa grattugia in acciaio inossidabile a lame estremamente affilate adatte a grattugiare velocemente il formaggio anche quello più stagionato il coperchio applicabile a scatto protegge le lame e le mani quando non si utilizza la grattugia il supporto antiscivolo assicura una buona stabilità durante il lavoro e l'impugnatura morbida garantisce una presa confortevole la grattugia è facile da pulire ed è lavabile in lavastoviglie trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 pratica grattugia per formaggio con vaschetta il prodotto è in acciaio inox è solido compatto e durevole nel tempo è lavabile in lavastoviglie questa grattugia è molto funzionale grazie alla pratica vaschetta raccogli formaggio ottimo prodotto per qualità prezzo trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 la grattugia gigante di alessi consente di produrre con una sola passata la quantità di formaggio necessaria per ogni singolo piatto un esempio di oggetto da esibire sulla tavola o nella cucina ma allo stesso tempo dotato di una precisa prestazione questa bellissima e funzionale grattugia di design è particolarmente indicata per i grandi consumatori di formaggio grattugiato la grattugia in acciaio inox e legno materiali di qualità durevoli nel tempo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 splendida grattugia verticale in acciaio inossidabile la grattugia cheese please di alessi è lavabile in lavastoviglie è un oggetto di design e di alta qualità la forma di campanaccio è evocativa e nello stesso tempo particolarmente adatta alla funzione di questo oggetto il tipo di foro di questa grattugia è quello di forma circolare contornato da piccoli dentini i fori così conformati consentono di grattugiare a strappo un processo particolarmente indicato per formaggi stagionati come il parmigiano ottimo prodotto il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione grattugiato